Un saluto a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale d'approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti alle quali potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovrimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, chiozzodarossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto, video, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure semplici messaggi di testo. Ma iniziamo subito con la prima notizia perché dopo la richiesta che avviene ormai da diverse settimane da parte del sindaco di Vallefoglia Palmirocchielli, dedita alla creazione di un appunto vaccini sulle territorie delle comune, proprio in questi giorni è avvenuto un colloquio telefonico tra l'assessore alla sanità della regione Marche, Salta Martini, e il sindaco stesso in merito a questo tema. Vediamo. Innanzitutto c'è, noi avevamo raggiunto un picco di circa 140-150 contagi, siamo a poco più della metà, 73-74 casi, con un calo. È chiaro che dipende molto dai comportamenti, le feste diciamo che ci sono state hanno prodotto ulteriori contagi, anche se nelle famiglie e così via. Quindi c'è un calo, c'è la necessità di accelerare non solo sugli ultra settantenni, dove tutti vanno a Pesero, ma come ho detto ieri mattina di un colloquio telefonico all'assessore, c'è la necessità in questa area di fare i vaccini per tutto il resto della popolazione, speriamo prima dell'estate con tutta la diversificazione dei vaccini che abbiamo a disposizione e di farli qui da noi. Noi abbiamo fatto un paio di ipotesi, cioè la Casa della Salute, che è la cosa più naturale, anche se ci sono dei problemi di parcheggi. Ci è venuto in mente ieri come giunta la, diciamo, la zona industriale, la mensa di Talacchio, dove c'è un parcheggio enorme, se fosse condivisa anche dagli altri comuni. L'assessore ha detto che dobbiamo lavorare insieme perché si potrebbe dall'inizio di maggio, quando disporranno tutti i vaccini, anche pensare ad un punto di vaccino, insomma di vaccinazione in quest'area, dove ovviamente eviteremmo di portare 30-40 mila persone a Pesaro e quindi farli o nella zona industriale di Talacchio o nella Casa della Salute sarebbe quanto mai opportuno. Ho avuto questa disponibilità che spero si possa realizzare, insomma. Replicare quello che è stato fatto con gli screening dei tamponi è possibile con quello dei vaccini? Sì, io penso proprio di sì, insomma, nel senso che quando noi abbiamo fatto lì nella palestra, e qui si tratta di vedere anche tecnicamente se gli serve tutto il giorno, perché le palestre sono tutte anche impegnate, mentre la mensa di Talacchio sarebbe libera giorno e notte, quindi potrebbero fare i vaccini e disporne quando vogliono loro, sarebbe, diciamo, importante perché c'era bella soddisfazione da parte dei cittadini verso la regione, verso i comuni, verso le istituzioni, erano tutti contenti quando abbiamo fatto i tamponi al Palavitri e a Montecchio, insomma. Dopodiché, se è alla Casa della Salute, al Palavitri oppure alla zona, alla mensa di Talacchio, dove c'è un parcheggio enorme, è importante che si facciano qualssù. E l'amministrazione comunale di Vallefoglia, nella giunta che si è tenuta proprio in questa settimana, ha approvato il progetto per la sistemazione delle aree esterne presso le scuole dell'infanzia Regina Reginella II di Montecchio, in via 25 aprile, e la scuola Ochebelle Castello di Sant'Angelo, in Lizzola. Il progetto prevede, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia di Montecchio, la realizzazione di una nuova pavimentazione esterna che costruirà un fondo per i giochi per i bambini, mentre per quella di Sant'Angelo la sostituzione integrale di quella già esistente in quanto ormai logore pericolosa con una della stessa tipologia. Il costo complessivo delle opere pare ad 80.000 euro, di cui oltre 70.000 finanziati con un contributo delle Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla Nascita a 6 anni di età, erogato tramite la Regione Marche, e restanti, poco più di 9.000 euro, finanziati con fondi propri dell'amministrazione comunale. E ora cambiamo argomento per parlare di cucina, perché questa settimana abbiamo intervistato in esclusiva lo chef Giuseppe Biuso, uno tra i più giovani ad aver ricevuto la sua prima stella Michelin. Lo chef Biuso, residente ormai da diversi anni qua nel nostro territorio, ci ha raccontato la sua esperienza da executive chef in uno dei resorti più belli e affascinanti d'Italia. Vediamo il servizio. Sì, io lavoro chiaramente in Sicilia, a Vulcano alle Isole Olie, però vivo qui a Pesaro da sei anni, perché mia moglie è cattolichina, quindi abbiamo deciso di vivere qui. Quindi la famiglia, due figli sono qui, quindi mi trovo benissimo. Diciamo che l'inverno lo passo qui a Pesaro e poi l'estate la trascorro a Vulcano, alle Isole Olie, come dicevo prima. Chiaramente il Terrasia Resort, che è il resort dove lavoro, ha varie tipologie di ristorante. Abbiamo quattro ristoranti all'interno, il ristorante vegetariano, il ristorante il Capro, nonché il ristorante stellato. Io gestisco un po' tutti i ristoranti. A 27 anni ho intrapreso questa esperienza in una struttura grande e impegnativa da Executive Chef. Adesso che ne faccio parte da sei anni, sono estremamente orgoglioso. Gestisco non solo i ristoranti, ma il ristorante gourmet, che è un po' la mia passione. Io credo che la cucina sia una forma di dialogo, un modo per trasmettere e far sentire i nostri clienti soddisfatti, perché oggigiorno non è solo cucinare, quindi il cuoco non solo ha la responsabilità di cercare la migliore materia prima, ma trasmettere qualcosa. In questo caso sostenibilità, ricerca, passione, un po' quello che dovrebbe fare il cuoco. Raccontaci anche un po' delle emozioni, l'aver ottenuto la stella, anche le tue prime sensazioni e poi i progetti per il futuro. Tu ci hai parlato che lavorerai lì in estate, mancano pochissimi mesi, settimane, possiamo dire. Speriamo di iniziare il prima possibile. Per un cuoco prendere la stella è il sogno di una vita. Io ho iniziato a fare questo lavoro a 14 anni, quindi ho fatto tantissime esperienze e vedevo i ristoranti stellati come l'Olimpo dell'alta ristorazione. Quindi far parte di quella fascia, di quella categoria, per me è una grande soddisfazione. Tra i tanti insegnanti che hai avuto c'è neanche uno d'eccezione, ovvero Canavacciuolo, e poi, curiosando un po' nel tuo profilo social, tantissimi VIP che hai incontrato da Chef, Will Smith, De Rossi e Ezio Greggio. Esatto, sì, sì. Allora, Canavacciuolo è stata un'esperienza fantastica. Ho lavorato da lui un anno e poi grazie a lui ho fatto il sous-chef al Boscareto Resort. Lui è un grande, un grande maestro e sono contento di portare sul mio bagaglio professionale la sua esperienza. Sì, cucinare per personaggi dello spettacolo è sempre emozionante. Willy Smith, abbiamo detto, abbiamo avuto grandi, grandi artisti, cioè grandi, non solo artisti ma anche attori ed è sempre bello cucinare per loro. Chiudiamo con un augurio per la stagione che verrà e per il futuro? Speriamo, speriamo bene. Io quest'anno diciamo che ho intrapreso proprio tutto il menù sotto forma di viaggio. Infatti il concetto di quest'anno sarà il viaggio emozionale. Tutto partirà dalla degustazione da un aeroplanino che sarà appunto il viaggio, quello che non abbiamo mai potuto fare. Quindi il viaggio, l'esperienza è un po' quella mentale che è solo quella appalato. Quindi parte il menù degustazione con un aeroplanino, poi il menù è suddiviso in esperienze che ho fatto o che vorrei fare. Quindi nei vari stati, Marocco, sono stato in Marocco, ho fatto a Finlandia, sono stato in Francia, Spagna e quindi un po' tutte le mie esperienze riportate in un unico menù. E poi richiudiamo il menù degustazione con un aeroplanino di ritorno. Quindi facciamo vivere l'esperienza che non abbiamo potuto vivere al nostro cliente. E ora ci spostiamo a Montellabate, dove l'amministrazione comunale ha dato il via al secondo progetto di utilità sociale destinato ai cittadini che beneficiano dell'eredito di cittadinanza. I soggetti che partecipano a questo progetto forniscono il proprio apporto a favore di un servizio utile alla comunità. Il sindaco di Montellabate, Cinziaferri, si spiega nel dettaglio in cosa consistono questi progetti. Finalmente siamo riusciti a far partire i famosi PUC, i progetti di utilità collettiva, collegati a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Ci abbiamo messo un anno di lavoro, grazie anche alla tenacia della responsabile dottoressa Elvira Cavalli e anche il supporto dell'ambito territoriale. Siamo riusciti a realizzare, inventarci e poi realizzare questi progetti e impiegare queste persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. Perché sono straconvinta e credo che i miei colleghi sindaci e poi anche loro riusciranno ad integrare questi progetti perché è giusto dare un sostegno a chi è in difficoltà e non lasciarlo in povertà. Però è anche giusto dall'altra parte che queste persone prestino delle ore di lavoro nell'ambito comunale, di competenza e successivamente di essere reinseriti nell'ambito lavorativo. È importante perché comunque oltre ad avere un ritorno di lavoro sul territorio ma è anche un impegno per la persona che percepisce il reddito perché solitamente si richiudono dentro le mura di casa e poi con tutte le conseguenze che possono derivarne. Un progetto è partito lo scorso novembre, uno sta per partire, quanti ce ne sono? Allora uno è partito lo scorso novembre che era inerente alla mensa, l'altro che sta per partire è l'accompagnatore sui pullman dello scuola bus del comune di Montelabate, poi ne abbiamo in programma altri inerente al decoro urbano, alla pulizia delle scuole esterne, quindi muretti, verniciatura muretti, panchine e cose varie e adesso stiamo lavorando su un progetto inerente all'ufficio tecnico per impiegare eventualmente ragazzi o ragazze o signori insomma che percepiscono il reddito di cittadinanza ma che hanno delle qualifiche un pochino più specifiche. Quante sono più o meno le persone coinvolte in questi progetti? Allora attualmente le persone coinvolte mi sembra che siano quattro e poi chiaramente bisogna distinguere chi percepisce il reddito di cittadinanza, abbiamo una fascia di persone deboli che percepiscono il reddito di cittadinanza che non possono essere impiegati nei PUC e poi abbiamo invece tutte le altre persone che erano sul lavoro, lavoravano e adesso invece percepiscono il reddito di cittadinanza e quindi vengono impiegate nei PUC. E il Comune di Vallefoglia, proprio in questi giorni, in conseguenza la sua istituzione avvenuta nel recente 2014, mediante la fusione dei comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Elizzola, ha deciso di procedere alla stampa di un'opera divulgativa e informativa che faccia conoscere ed apprezzare il proprio territorio. La città di Vallefoglia infatti, oltre a vantare una storia illustre legata ai suoi castelli, con Colbordolo, Montefabbri e Sant'Angelo in Elizzola e alle ruole che gli stessi hanno svolto dall'epoca medievale alle periodo unitario, ha dati natali o è stata residenza eletta di famosi personaggi che hanno ricoperto ruoli di prestigio nella storia italiana, tra cui Terenzio Mamiani, Giulio Perticari, Giovanni Santi, Giovanni Branca, Girola Mogenga e Francesco Paciotti. Questi personaggi, ha sottolineato l'amministrazione comunale, hanno fatto conoscere le territori a livello nazionale e per questo motivo la Giunta ha disposto di procedere alla realizzazione di una pubblicazione sulla città di Vallefoglia, che ripercorre le sue origini attraverso le vicende delle personalità più illustri che l'hanno resa famosa. E dopo la richiesta fatta diverse settimane fa sulla realizzazione di un epolo tecnologico a supporto dell'innovazione agroalimentare a Morciola, l'Università degli Studi di Urbino ha risposto alla domanda di collaborazione inoltrata dall'amministrazione comunale di Vallefoglia, presentando una proposta per il recupero della zona dell'ex cantina sociale. Vediamo il servizio. Noi abbiamo apprezzato anche la velocità, devo dire, dell'Università nel prepararci un'ipotesi di lavoro abbastanza importante che dovremmo confrontare dopo un primo passaggio in giunta della città di Vallefoglia, con la regione, con la provincia che incontro i prossimi giorni, con le banche, le due banche interessate, con il consorzio di bonifica che è uno strumento della regione che è interessato perché è chiaro che costruire un polo tecnologico e scientifico sull'agroalimentare e anche una scuola di alta specializzazione per la formazione di giovani manager molto interessante per il ricambio generazionale nelle imprese perché, come si sa, gran parte del ricambio generazionale nelle imprese ha prodotto una moria di imprese piuttosto rilevante anche in questo territorio. Quindi, soprattutto in un momento come questo, mettere insieme l'Università, la provincia, la regione, il comune, le banche, gli istituti di credito per elaborare una progettualità, diciamo, che ci consenta di far diventare anche un punto di vendita diretta dei prodotti di grande qualità, un monitoraggio sulla qualità dei prodotti che vanno sulla tavola dei consumatori e un monitoraggio continuo e costante dell'acqua, dell'aria e, diciamo, questa necessità di collaborare tra i diversi centri come l'Università, come le istituzioni, la regione, la provincia, eccetera. Quando si potrebbe cominciare mi sembra una cosa un po' prematura, però si può incominciare a vedere se l'ipotesi progettuale elaborata dall'Università è un'ipotesi condivisibile dalla regione, dalla provincia, dall'amministrazione comunale, dagli istituti di credito e soprattutto, diciamo, dalle autorità competenti attraverso le quali noi potremmo avere delle risorse finanziarie. Parlo dei ministeri competenti, soprattutto dei fondi europei, per un intervento piuttosto significativo di forte anche riqualificazione di quell'area che oggi è un punto vendita della ex cantina sociale dei colli pesaresi, oggi Pisaurum, quindi è un'operazione con una cooperativa, con dei privati e con le istituzioni pubbliche. Può essere una cosa ottima per tutta la vallata che va, come dico sempre, scherzando, da Pisra, Belforto e Lisauro, circa 180 mila abitanti. E ora concludiamo parlando di sport. È stata una settimana difficile per la megabox e Vallefoglia, reduce da due sconfitte consecutive nella fase della pole promozione. Le ragazze di Cozzo e Fabio Bonafede, dopo la sconfitta subita a Marsala sabato sera, non sono riuscite a rifarsi nelle turno infrasettimanali giocato mercoledì a Roma contro l'Acqua e Sappone. Dopo le prime sette combattute e perso per 27-25, la megabox non è riuscita a rientrare in partita cedendo la distanza per 3-7-0. La classifica vede ora la megabox al quarto posto a quota 47 punti, alle spalle di Roma 59 punti, Mondovì 54 e Macerata 49, ma va detto che la megabox ha giocato due partite nemmeno rispetto a Macerata ed uno nemmeno rispetto a Roma e Mondovì. Ai playoff e promozione si qualificano le squadre classificate dalla seconda all'ottava posizione nella pole promozione. Nel prossimo turno sarà Roma a salire a Vallefoglia domenica pomeriggio per la gara valida nella quarta giornata di ritorno della fase finale. E siamo giunti alla conclusione di questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine. Io vi ringrazio per essere stati con noi qua su Rossini TV, vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo il 23 di aprile e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.